E' un bel esperimento. Insomma, quando mi ha risposto non ho dovuto dire di tanto per fargli capire che fossi io. Si ricorda Babenzea? Sì, ma quando mi rispose non riuscì subito a capire che ero io. Non ci mette tanto per conoscermi, aveva capito subito che ero io. Gli ho fatto capire che quella di parlare con me ti era una scusa, anche perché mi interessava parlare con lui. Perché da quando l'avevo vista quel pomeriggio non ce l'ha prestata nessun altro problema. Mi feci capire che praticamente parlare con lei era una scusa. Io ho telefonato per lei, logicamente l'ho scusa per parlare con Carmine ma poi ho parlato con lei. Lui era un entusiasta. Cosa diceva che dopo siamo usciti e ci siamo incontrati nell'arena di Piazza Vittorio? Lei era imbarazzatissima, agitatissima. Due giorni e mezzo dopo ci incontrammo nell'arena di Piazza Vittorio. Un po' l'ho presa, un po' l'ho presa, bravo, un po' l'ho presa. Bene, andate. Viene. Grazie. 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 Grazie.